Si allungano i tempi per il trasloco dell'Agenzia di Promozione Culturale di Piazza Venezuela nella sede dell'ex-Inps. La convenzione fra Regione Abruzzo e Sistuto Nazionale per Evidenza Sociale sarà siglata lo scorso 3 luglio, ma indicazioni precise sulla data della ripresa del servizio in via Sardi non sono ancora arrivate. Diverse sollecitazioni sono partite dal sindaco di Sulmona, Maria Cassini, che resta fiduciosa sull'avvio del servizio della sede Inps per la metà di agosto. Ma il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, Giancarlo Zappacosta, attende indicazioni precise dal dirigente del patrimonio. Allora qui la risposta la deve dare il dirigente del patrimonio della Regione Abruzzo che ci dovrà dire soprattutto quali sono le disponibilità che l'Inps ha messo in campo. Ritengo che comunque sia una soluzione a mio parere che debba essere provvisoria perché il Palazzo Portoghesi di Piazza Venezuela, l'Agenzia della Promozione Culturale, non può essere lasciato lì a languire. Perché è anche urbanisticamente un grande must della città di Sulmona. Nel frattempo malcontenti per l'interruzione del servizio e proprio in concomitanza degli esami di Stato universitari, non sono mancati con altrimenti Valle Peligna che aveva proposto come aula studio la sede del Centro Giovani. Grazie. 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 Grazie.